. Paola Caruso e Luca Onestini a cena insieme a Milano Luca Onestini a cena con Paola Caruso dopo il reality. . Pochi giorni prima della finale del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha ricevuto un messaggio aereo da Paola Caruso. La bonus di Avanti un altro si è dichiarata per lui dicendogli addirittura di essere innamorata e che lo avrebbe aspettato fuori. . Qualche settimana fa la Caruso aveva già dichiarato il suo forte interesse per Luca da Barbara D'Urso a pomeriggio 5, dicendo di apprezzarlo molto sia fisicamente che caratterialmente. . Ieri sera i due sono stati invitati ad una cena comune a Milano e si sono subito seduti accanto. . Tra una portata e l'altra hanno sicuramente avuto modo di chiacchierare, Luca infatti ha già iniziato a seguirla su Instagram. . . Luca Onestini è single, con chi deciderà di uscire?. . Luca Onestini è entrato nella casa più spiata d'Italia fidanzato con Soleil Sorgeman e è uscito single. . Subito dopo la loro rottura Soleil ha iniziato una nuova storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegne. . . Durante il suo percorso al grande fratello Vipo Onestini ha riscosso molto successo, sono state infatti molte le ammiratrici a farsi avanti. . 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